Mmm, tesoro... Ti amo. Non dovremmo usare il profilattico. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Porro negli occhi! In Italia, mediamente ogni cinque minuti, si effettua un coito interrotto. Di cinque minuti, il coito interrotto non è un metodo contraccettivo affidabile. Usate contraccettivi affidabili. Fidati di uno che le approvate tutte.